Fabio dispiace un po' perché non è arrivata la vittoria e il campo ha detto però che Lecce ha disputato un'ottima prestazione, un'ottima partita. Ma io credo che anche oggi si sia disputata una grande partita contro una squadra chiusa, una squadra fisica, una squadra che sicuramente non è venuta qua per fare il bel gioco. C'è amarezza, c'è rammarico perché volevamo vincere questa partita davanti al nostro pubblico e ci tenevamo tanto. Purtroppo non è arrivata la vittoria ma credo che la squadra stia lavorando molto bene affinché poi i risultati possano arrivare. Ancora un tuo gol ma soprattutto un gran gol sul calcio di punizione. aveva dato la svolta alla partita. Poi è arrivato il pareggio ma comunque un ottimo Lecce. Sì, un ottimo Lecce. C'è il rammarico perché potevamo portare a casa i tre punti come a Benevento. Benevento c'è stato un rigore dubbio, oggi sul due loro c'era un fallonetto a mio avviso, ma avviso di tutti che sono l'arbitro. Non ha visto, ci ha tolto l'emozione di portare a casa i primi tre punti di fronte al nostro pubblico. Comunque una prestazione che incoraggia questo Lecce. No, se giochiamo così ci riprendiamo quello che ci hanno tolto oggi. La squadra c'è, ha fatto bene, dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto a Benevento e oggi penso abbiamo dato la giusta dimostrazione. Un'ottima prestazione della squadra, sono arrivati due vantaggi, poi il pareggio che ha guastato un po' la festa, ma un'ottima prestazione di questo Lecce. Ma credo di sì, io devo analizzare un po' i 90 minuti e quindi in automatico posso solo pensare ad una partita importante, di grande livello, di grande qualità e di grande personalità. È normale che noi siamo una neopromossa, dobbiamo ancora migliorare determinate cose, però è fuori discussione che il secondo gol è irregolare e quindi la squadra è amareggiata per questo. In maniera incredibile non si può non fischiare il fallo del secondo gol. Comunque soddisfatto dei suoi ragazzi? Molto, molto soddisfatto. Abbiamo due settimane per lavorare, recuperare qualche giocatore e torneremo ad Ascoli con grande serenità ma con grande rabbia dentro di questa mancata possibilità di avere due punti in più.